Nessuno di voi è diventato prete, o suora. Voi vi siete sposati. Questo vuol forse dire che oggi è importante fare famiglie cristiane? Per tanti anni ho pensato che sarei diventata suora. Avevo cominciato a frequentare un convento. Il desiderio di entrarvi era fortissimo. Ma la madre superiore mi ha detto. Se tu vuoi venire, sei la benvenuta. Ma se il vescovo decide che non devi più parlare di Meggiugorie, devi obbedire. A quel punto ho cominciato a pensare che forse la mia vocazione era quella di testimoniare ciò che ho visto e sentito, e che avrei potuto cercare la via della santità anche fuori dal convento. Che cos'è per lei la santità? Vivere bene la mia vita di tutti i giorni. Diventare una madre migliore. E una sposa migliore. Ha ancora paura di qualcosa? La paura c'è sempre. Ma posso ragionare. Dico. Grazie a Dio ho fede. E so che la Madonna ci aiuta sempre nei momenti difficili. Io vedo che il mondo soffre per tante cose. La guerra. Le malattie. La fame. Ma vedo anche che Dio ci sta dando tanti aiuti straordinari. Come le apparizioni quotidiane a me a Visca e Ivan. E so che la preghiera può tutto. Quando dopo le prime apparizioni, dicevamo che la Madonna invitava a recitare il rosario tutti i giorni e a digiunare. Ci sembrava di essere, come dire, antiquati. Anche da noi il rosario era una tradizione superata da un paio di generazioni. Eppure quando è scoppiata la guerra abbiamo capito perché la Madonna ci diceva di pregare per la pace. Uno dice. Che cosa può fare un rosario? Per molti, niente. Io invece, credo nella potenza della preghiera. E questo il cuore del messaggio di Meggiugorie? Riscoprire l'importanza della preghiera? Sì. Ma non solo questo. La Madonna ci dice anche che la guerra è nel mio cuore se non ho Dio. Perché solo in Dio si può trovare la pace. Ci dice anche che la guerra non è solo dove si tirano le bombe. Ma anche, per esempio, nelle famiglie che si sfasciano. Ci dice di frequentare la messa. Di confessarci. Di sceglierci un direttore spirituale. Di cambiare vita. Di amare il prossimo. E ci indica con chiarezza che cosa è peccato. Perché il mondo di oggi ha smarrito la consapevolezza di cosa è bene e cosa è male. Penso, per esempio, a quante donne abortiscono senza rendersi conto di cosa fanno. Perché la cultura di oggi fa credere loro che non sia un male. Oggi molti credono di essere sull'orlo di una guerra mondiale. Io dico che la Madonna ci dà la possibilità di un mondo migliore. Amiriana, per esempio, ha detto di non avere paura di avere tanti figli. Non ha detto. Non fate figli perché verrà la guerra. Ci ha detto che se cominciamo a migliorare nelle piccole cose di tutti i giorni, tutto il mondo sarà migliore. Molti hanno paura dell'Islam. Non voglio gettare benzina sul fuoco. Non sono per le guerre di religione. La Madonna ci dice che è madre di tutti. Senza distinzioni. E come veggente dico. Non dobbiamo avere paura di niente. Perché Dio guida la storia sempre. Anche oggi.